Anche in Italia, il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con alcune indicazioni utili a evitare la circolazione del monkeypox virus, noto anche come vaiolo delle scimmie, facendo seguito alla dichiarazione dello Stato di Emergenza di Salute Pubblica Internazionale, decretato dal Comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, diramato lo scorso 14 agosto. Dal 20 maggio 2022, data della prima segnalazione del primo caso di contagio in Italia, all'8 agosto del 2024, sono stati segnalati complessivamente 1.056 casi confermati di monkeypox, secondo i dati diffusi dal Ministero. In Abruzzo le infezioni accertate sono state finora 9, riportate nella nostra regione solo per contagio avvenuto nei paesi esteri dove insistono focolai del virus. Non si può quindi parlare di circolazione su base territoriale e dunque, al momento, nessun allarmismo in Abruzzo per il monkeypox, rassicura al Tg8 il professor Giustino Parruti, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive della Asla di Pescara, che mette in guardia dai rapporti sessuali non protetti, individuati come la principale causa di diffusione del virus. Quello che noi sappiamo dell'epidemiologia di questo virus è che negli ultimi mesi, probabilmente per un processo mutazionale, ha cominciato a diffondersi una variante più contagiosa. Non cambia però, di questo patogeno noto da anni per la sua provenienza dal mondo animale, ma oramai a trasmissione interumana, la modalità di comunicazione, che non è certo né quella respiratoria né quella da contatto occasionale nell'ambito di un incontro. È un virus che si trasmette solo da contatto intimo e che normalmente si trasmette in condizioni di promiscuità. Quindi fondamentalmente rappresenta un pericolo decisamente contenibile che non deve assolutamente preoccupare la nostra popolazione generale. La situazione in Abruzzo qual è? Ad oggi non ci sono prove di trasmissione locale, cioè tutti i casi, pochi peraltro, nove in totale, sei negli ultimi mesi, insomma, che sono stati riportati nella nostra regione sono casi di importazione. Cioè le persone a rischio hanno contratto un'altra sede e poi hanno fatto la diagnosi qui in Abruzzo. Può avere delle conseguenze mortali o comunque si può guarire senza troppi problemi? La maggior parte delle forme sono del tutto autolimitanti, anche senza specifica terapia possono avere un'evoluzione del tutto favorevole. Nell'ultima variante, quella di cui si parla in questi giorni, c'è un'incidenza di forme severe forse maggiore. Certo, come tutte le malattie, non va trascurata perché ha una capacità di attivare il sistema immunitario importante e quindi rende poi più suscettibili, più fragili ad altre malattie come il Covid. Contrarre la malattia significa poi essere immuni da altri eventuali contagi e ricadute? Sì, però non è questa la strada per immunizzarci perché c'è un vaccino che è efficace, disponibile. Quindi se ci sono delle persone particolarmente a rischio, tutti i nostri servizi sono pronti per il corretto indirizzo verso la possibile esposizione vaccinale. Consigli utili a chi ci sta ascoltando in questo momento? Come si può prevenire appunto il contagio? Avendo rapporti sessuali protetti ed avendo soprattutto cautela nei rapporti occasionali perché fondamentalmente sono quelli dove è più facile che un partner possa non sapere di un'infezione recente che è in corso perché altrimenti grossi rischi non ci sono. Cosa comporta il contagio da monkeypox? Come si evidenzia poi la malattia? Sono delle lesioni vescicolari raggruppate, distribuite prevalentemente agli arti e all'addome che fondamentalmente sono caratteristiche di un sospetto. Chi capisce di essere stato contagiato cosa deve fare? Avere rispetto di sé e degli altri nel sospetto, non avere rapporti intimi fino a che non è stato chiarito il sospetto di questa malattia.